L'Aula di Palazzo del Pegaso approva all'unanimità due emozioni presentate rispettivamente dal gruppo PD e del gruppo Fratelli d'Italia per la salvaguarda e rilancio del polo siderurgico di Piombino. Contributo a fondo perduto per gli operatori del Sistema Neve, 150.000 euro per il Vai Design e 237.000 euro per i cammini regionali. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 29 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle. Per la salvaguarda e rilancio del polo siderurgico di Piombino, l'Assemblea ha votato all'unanimità due emozioni, una presentata dal PD e l'altra dal gruppo Fratelli d'Italia. Come spiegato dal primo firmatario Gianni Anselmi, l'atto non si occupa di siderurgia in quanto tale, ma di tutte le attività economiche che si intersecano con essa, per una visione complessiva di un comparto che riguarda non solo la Toscana ma l'Italia tutta. Da qui l'importanza di intervenire sul risanamento ambientale, sui temi infrastrutturali e sulle relazioni con il porto, sul ruolo del demanio e soprattutto sulle opportunità per i lavoratori, così da rileggere e qualificare un sito industriale che insiste su 900 ettari di territorio, ha sottolineato il consigliere. Il destino del polo siderurgico è il perno intorno al quale in realtà fa ruotare tutta una serie di questioni che dopo alcuni anni di chiara difficoltà credo debbano essere portate ad una soluzione, comunque avviate ad una soluzione, a un punto di svolta, anche profittate della volontà manifestata dallo Stato di entrare nel capitale della società, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vedono anche nella riconversione dell'industria pesante, della transizione ecologica dell'industria pesante, uno dei punti qualificanti. Quindi noi mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona, secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio. Il tema del risanamento ambientale, quindi le bonifiche, l'economia circolare e il riuso delle materie seconde, il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive, magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale con la bretella che partirà nel primo tratto, fra breve, è già stata appaltata, e nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. La regione Toscana ha approvato due atti, uno di Fratelli d'Italia, dove si ribadisce, mi fa piacere, che il Consiglio regionale tutto all'unanimità ribadisca un concetto, ovvero che Piombino è un sito siderurgico che ha le potenzialità per essere eccellenza nazionale ed eccellenza internazionale, perché Piombino ha tutte le carte in regola, non, come dicevo prima, per essere salvato per elemosino o per gentile concessione. Piombino può diventare il primo sito siderurgico d'Italia e forse tra i primi d'Europa ad avere un forno completamente elettrico da un milione e mezzo di tonnellate annue, che ha una produzione incredibile e che classificherebbe il sito di Piombino come un'eccellenza non solo da un punto di vista produttivo, ma anche da un punto di vista della transizione ecologica, visto che in questo momento si fa un gran parlare di transizione ecologica. Cioè immaginatevi un sito siderurgico e nell'immaginario collettivo è quanto di più impattante e inquinante possa esistere, che lavora ed è l'unico sito in Italia, per esempio, che produce rotaie, tanto per fare un esempio, che ha una produzione di tutto rispetto e che lo fa in maniera ecologica. Abbiamo votato anche unitariamente due atti importanti, sia della maggioranza che dell'opposizione, per far sì e dare un segnale che il Consiglio regionale spinga affinché il Governo trovi una soluzione adeguata. Questo credo che sia necessario anche con un tavolo che comprenda tutte le amministrazioni e i vari ministeri interessati. Chiaramente in questo anche il Comune di Piombino sta svolgendo una posizione, una parte molto positiva, con l'attuale pianificazione urbanistica e il piano strutturale che sta ponendo in essere. La situazione è difficile, ma nelle mani della nostra viceministra Todd, che nel Consiglio aperto a Piombino il 14 settembre ha annunciato l'ingresso dello Stato con Invitalia nella questione dell'acciaieria di Piombino, perché lei stessa, come ha condiviso con me in alcuni incontri che abbiamo fatto, è ben consapevole della rilevanza del sito di Piombino per l'acciaio e pretenderà per esso la stessa attenzione che è stata dedicata al sito di Taranto. Quindi massima attenzione ancora del Governo e del Movimento 5 Stelle. Siamo costantemente in contatto con la viceministra per arrivare a una soluzione positiva dell'esito di una situazione che ormai da troppi anni purtroppo prende banco sulla costa toscana e in tutta Italia. Tre interventi a favore del sistema economico toscano a sostegno di imprese e comparti più colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il primo a favore degli operatori del sistema neve, poi un contributo straordinario per il progetto By Design e infine risorse per la completa realizzazione dell'intervento di miglioramento nella fruibilità dei cammini regionali. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 29 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle dopo essere stata illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Lara Bugetti. Si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve dove si stanziano 800 mila euro vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno tutti i gestori a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. è una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150 mila euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri, con il sistema delle Camere Esteri, con l'Università di Architettura di Firenze e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse, sono circa 230 mila euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana, voi sapete che ce ne sono tantissimi che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Oltre un milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato, 800 mila euro è uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile, il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonzi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo, del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150 mila euro e poi oltre 200 mila euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di un milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi ormai da un anno un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo, più di altre zone, il lockdown e la pandemia. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali che vengono definise montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi, soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla regione per alzare i massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione. Speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere da Betone Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport 2022, perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopopandemia più forte possibile. È stato un curioso provvedimento che mescolava tre argomenti completamente diversi, cosa che anche la tecnica legislativa sconsiglia. Un breve flash su ciascuno degli argomenti. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono sei anni, vengono presentati dei contributi una tantum al sistema neve e è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi e è giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in regione toscana che valorizzata, pensiamo al cammino di Santiago di Compostela, può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente spiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150 mila euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro ma verrebbe in pratica appalmattato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Cascina, la mia città e Perignano, altre zone pisane hanno dei centri di assoluta eccellenza, lo stesso posso dire di Quarrata, di mille altre attività toscane di artigianato e di eccellenza da internalizzare. Internazionalizzazione che tra l'altro fa già la Camera di Commercio e fa già la Regione Toscana con le sue agenzie. Perché regalare 150 mila euro quindi a questa società che ricordo è un SRL? L'assessore non ha saputo risponderci.